Se facesse naufragio, che cosa non dovrebbe mancare sulla sua zattera per poter sopravvivere? Tanta roba da mangiare. Ah, subito partiamo così, eh? Sì, sì, sì. Con chi vorrebbe tanto naufragare, travolta da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto? Con te, naturalmente. Tutte false siete. Bene. Invece, chi o che cosa butterebbe subito ai pescecani? Cosa butterei ai pescecani? Sì. Un po' di quotidianità. Qual è il pesciolone che non ha mai abboccato al suo amo? Qual è il pesciolone che non ha mai abboccato? Ma abboccano tutti. È sicura di non sbagliare esca? Se abboccano, cosa usa di solito? Tanto amore. Tanto amore? Sta affogando. Da chi vorrebbe essere salvata? Da Hugh Grant. Da Giuseppe? Hugh Grant. Ah. In che situazione abitualmente si sente un pesce fuori d'acqua? Boh, raramente. Raramente. Benissimo. In che situazione non quante volte ma facciamo finta di niente. Ah. Lei in questo momento è come il sole che va e viene in questa giornata. Quale pesce la rappresenta di più? Anche un pesce di fantasia? Pesce martello, pesce cane, pesce pagliaccio, pesce palla, pesce sega, pesce tutto. Pesce pagliaccio. Pesce produtore. 92 A AI з